Ciao a tutti e benvenuti, bentrovati nell'angolo dell'unico svapo. Oggi siamo in casa a Cthulhu, il polipone dello svapo, per parlare della nuova versione del suo tubino che avevamo visto due anni fa, che mi era piaciuta e non piaciuta. Andate, magari se siete curiosi, a vedervi anche quella recensione. Un tubino che, come la versione precedente, funziona sia con 18350 sia con batteria 18350, quindi diventa anche piccolino, è un tubino ad attivazione meccanica ma mosfettato, quindi ha un circuito che vi garantisce tutte le protezioni del caso. Protezione da cortocircuito, protezione da batteria scarica, protezione da inversione batteria, protezione se superate i 10 secondi di svapata e un'ulteriore protezione che non vi farà utilizzare coil al di sotto dello 0,25 ohm. Il tubino in questione si chiama Tube2, ve lo faccio vedere, è questo qui, pesa 130 grammi e è fatto in acciaio 304, quindi adesso non vi resta che mettervi comodi, lasciare un pugno di like, iscrivi al canale, attivare la campanellina, io qui ne ho un secondo da regalare ad uno di voi grazie alla stessa Cthulhu, quindi seguite tutto il video e noi ci vediamo subito dopo la macro, buona visione. Packaging in linea con il contenuto della confezione. All'interno di questo tubicino troveremo il Cthulhu Tube Mod 2 in versione mosfettata, due le correlazioni disponibili, andiamo a vedere gli indirizzi social per stare in contatto con gli appassionati del marchio, alcune delle caratteristiche, è un tubo meccanico mosfettato, ha la protezione dal cortocircuito, ha la protezione da inversione della batteria, ha un cutoff di 10 secondi, va in protezione quando la carica della batteria utilizzata scende al di sotto di 3.4 volt, va in protezione quando andremo ad utilizzare atomizzatori con coil inferiore a 0,25 ohm ed è compatibile con batterie 18 350 e 18 650. Quindi, all'interno di questo tubicino troveremo un manuale di istruzione in tutte le lingue, naturalmente anche in italiano, quindi vi consiglio di darci un occhio, e questa bellissima sacca che al suo interno contiene, ve lo faccio vedere in colorazione nera, il nostro tubicino. Misure 24 mm di diametro per 86 mm in versione 18 350 e 56 mm in versione 18 350, pesa 130 grammi in questa versione ed è fatta in acciaio 304. Sotto troviamo questo tasto con il simbolino del polipone che ha una particolarità, può essere bloccato, quindi se noi andiamo ad avvitare tutta la parte sotto, vedete che il tasto non può essere pigiato. Se noi andiamo a svitarla in questo modo, e quindi in realtà andremo a far congiungere questa parte con la parte restante del tubo, il tasto può essere pigiato. Ribloccarla è molto semplice, in questo modo non potrà essere pigiato, quindi già una protezione molto interessante. Vi faccio vedere che anche poggiandola, visto che il tasto è quasi a filo, ma è leggermente rientrato rispetto alla parte del tubo, anche poggiandolo non si attiverà. Il tubo è fatto in, andiamo a smontarlo completamente, una, due e tre parti. Vi faccio vedere che l'interno ha questi isolatori in POM, che daranno un'ulteriore protezione alla batteria che andremo ad utilizzare. Come al solito vi consiglio di utilizzare batterie sempre in perfette condizioni. Vi faccio vedere il pin del positivo, dove andrà avvitato il nostro atomizzatore, classico pin che avevamo già visto nell'altro tubicino di casa Cthulhu. E qui avremo la possibilità, sollevando questa parte in plastica, di andare a sostituire anche il MOSFET. Altra cosa che vi voglio far notare, e qui c'è un piccolo forellino che servirà a, speriamo mai, nel momento in cui dovesse surriscaldarsi la batteria, dovesse andare a sfiatare, andrà a sfiatare da questo forellino. Andiamo a rimontarlo, in questo modo. E non ho sbagliato, perché l'ho montato apposta in versione piccolina, quindi come misurazione, qui avremo 56 mm, e qui l'avremo proprio in versione 18.3.50, e ci permetterà di andare ad utilizzare queste batterie piccoline. Ve lo voglio fare andare a vedere. Quindi andiamo a svitare la parte del tasto, così con la scusa ve lo faccio anche vedere. Inseriamo batteria con il positivo, verso il basso, in questo modo. Vi faccio vedere anche il tasto, tasto molto semplice. Questo andrà a chiudere il circuito, nel momento in cui sarà appicciato. Vi faccio vedere che se andiamo a svitare questa parte così, vedete che non potrà essere picciato. Quindi andiamo, teniamola in questo modo, andiamo a mettere dentro la nostra 18.3.50, è in protezione, e vedete, la batteria è ben salda al suo interno. Ve la metto a confronto anche con la prima versione del Cthulhu Mod, in versione a punto 1. Qui avremo, il tastino l'avevamo qui sopra, in questo caso invece qui il tastino è sotto, e le differenze, proprio in dimensioni, stanno nel fatto che hanno aggiunto questa parte, proprio per andare a collocare correttamente il tastino. Il MOSFET, secondo me, è identico, hanno utilizzato la stessa soluzione della lamella, con sotto una punta di colla, perché, se vi ricordate, la prima versione che è uscita, dava dei problemi, perché quella lamellina restava poi troppo bassa, e quindi non faceva contatto con il pin positivo del vostro atomizzatore, e qui hanno trovato questa invece soluzione di andare ad adottare il tasto sotto, soluzione che trovo veramente molto ben gradita. Andiamo a prendere un atomizzatore da 22 mm, in questo caso il bishop, giusto per farvi vedere come sta, non forzatolo più di tanto, arriva fino a battuta, e questo è con il bishop, andiamo a toglierlo, e vi faccio vedere anche come sta un atomizzatore da 24 mm, per esempio, andiamo a prendere questo, che è il berserker, così, ok, e questo è con l'atomizzatore da 24 mm, e mentre su questo di colorazione nera, ho rimontato il bishop, vado a posizionare qui di lato, vado a prendere il secondo tubicino, che mi ha inviato la Cthulhu, e nonostante si dica che io non vi voglia bene, questo sarà il tubicino, che invierò a uno di voi, vado a smontarlo, perché ve lo metto subito a confronto, quindi tolgo le due parti, o meglio tre parti, vado a riprendere 18650, me lo vado a riposizionare in questo modo, lo inserisco qui, e lo vado a trasformare in versione 18350, la cosa che vi raccomando, prima di andare ad avvitare l'atomizzatore sopra, la cosa importante è che andate a inserire la batteria, e portate fino a battuta le varie parti del tubo, perché nel momento in cui avvitate prima l'atomizzatore, e poi andate a metterci la batteria, abbasserete il pin del positivo, e forzerete lo stesso pin, il tubo non avviterà completamente, quindi poi vi consiglio sempre di andare ad avvitare il vostro atomizzatore, in questo modo, fino a battuta senza mai forzarlo, e qui avremo a confronto le due versioni, 18650 e 18350. Adesso non ci resta che andare a fare due, o meglio, quattro svapate assieme, come dico ormai ultimamente, e scoprire cosa penso di questo nuovo prodottino di casa, Kutulu, il polipone dello svapo. E vi voglio far vedere che, mentre nella prima versione bastava svitare questa vite, per andare a sostituire il circuito, il MOSFET, in questa versione, Kutulu dice che è possibile sostituirlo, quindi andiamo ad alzare questa parte, a toglierla proprio, vediamo se ci riusciamo, ok, sì, perfetto, si può fare, e andando ad avvitare questa vite, possiamo andare, ecco qui, questa vitina qua, possiamo andare a sostituire il circuito, vediamo un attimo, il colore della scheda è cambiato, sembra di sì, però mi sa, che il circuito non è uguale, vedo qualche integrato, in più su questo, nuovo, insomma queste sono un po' le differenze, quindi sappiate, che anche su questa versione, è possibile andare a sostituire il circuito, qualora avesse mai il funzionamento, così dovesse andare a, e allora come di consueto, non ci resta che andarlo a provare, questo tube 2 mod, di casa Cthulhu, io qui vi faccio vedere, la versione 18 350, compatta, molto compatta, nonostante il peso, si faccia sentire, perché hanno utilizzato un materiale, sia accello 304, ma di uno spessore importante, un tubino, così come il tubino precedente, nelle caratteristiche di sorta, non è cambiato un granché, hanno inserito degli installatori in POM, che isolano, o meglio, separano la batteria, dall'interno dello stesso tubicino, qui a proposito, mi raccomando, utilizzate sempre batterie, ben frappate, in perfette condizioni, perché nonostante questo tubino, questo discorso, vale anche per tutte le mod elettroniche, nonostante abbiano un circuito, che va in protezione, quindi vi protegge, in generale, un po' da tutte le situazioni, che possono avvenire, mentre state svapando, se la batteria è wrappata male, quindi è sbucciata, il corto è assicurato, e questo vale, sia per le box elettroniche, e lo riprendo ancora una volta, e sia per i tubicini mosfettati, come in questo caso, un tubicino, che facendo riferimento, al sito della Cthulhu, costa all'incirca 39 dollari, io penso che poi sul mercato, arriverà sui 30-35 euro, quello in genere, è il prezzo riferimento, di un prodotto, di casa Cthulhu, un tubicino, che ha una spinta, leggermente sottotono, è quello che ho notato, infatti, nella versione 18650, io ho preferito montarci, un atomizzatore a coil, prefatte, in questo caso, ho montato il Nautilus 3, e ho utilizzato, le nuove coil da un home, che faccio una piccola parentesi, delle coil, che funzionano bene, che riescono a soddisfare, tutti quelli che non trovano soddisfazione, con le 07 a mesh, che a me piacciono tantissimo, con queste da un home, avrete, un vapore meno caldo, e una svapata, molto molto piacevole, e a proposito, su queste coil, andrò a fare un video, apposito, un tubino, che è ad attivazione meccanica, perché a differenza, della versione precedente, dove, ce l'ho qui, bisognava pigiare, il tastino qui, in questo caso, il tasto, lo troviamo sotto, quindi, va a simulare, quello che è, il classico, tubino, meccanico, però, c'è il suo, mosfet, un doppio mosfet, che vi garantisce, tutte le protezioni, del caso, però, non può essere spento, e qui, Cthulhu dice, ok, non lo possiamo spegnere, ma mandiamo in protezione, la batteria, semplicemente, andando a svitare, in questo modo, così, il tastino sotto, il tasto, va in blocco, e quindi, non si attiverà, neanche, quando lo andrete ad appoggiare, sul tasto, cosa, che trovo interessante, e intelligente, come soluzione, ma, questo circuito, mosfet, a me, non è piaciuto, non solo, perché è leggermente, sottotono, e quindi, vi regala, delle svapate, un po' più morbide, che magari, a tanti di voi, possono anche piacere, ma per la soluzione, che hanno utilizzato, per il pin del positivo, così, come nel, vecchio circuito, anche in questo circuito, invece di trovare, una soluzione diversa, di quella lamellina, che spesso, si andava, a bloccare, o ad abbassare, quindi, hanno inserito, quel punto di colla, quel punto di silicone, anche qui, hanno adottato, la stessa soluzione, soluzione, e vi ripeto, che a me, sinceramente, non piace, anche perché, in passato, mi era successo, utilizzando, un atomizzatore, con un pin, positivo, a vite, quindi, aveva il taglio sotto, nell'andare a evitare, ad avvitarlo, aveva beccato, proprio la lamellina, e l'aveva fatta, saltare, quindi, ripeto, secondo me, qui, la stessa Cthulhu, avrebbe potuto, trovare, una soluzione, diversa, una cosa, che mi raccomando, che in genere, si fa su tutti i tubi, ma, io, visto che sono, uno svapatore semplice, lo ricordo a voi, spesso faccio anch'io, questo errore, prima di andare ad avvitare, il vostro atomizzatore, sul vostro tubino, andate ad insedire, la batteria al suo interno, serrate per bene, tutte le parti, che compongono, il vostro tubino, e poi andate, ad avvitare, il vostro atomizzatore, perché può capitare, che, se lo fate, in modo contrario, quindi, avvitate l'atomizzatore, che magari è un pin, un po' più lungo, e lo avvitate, fino in fondo, e poi andate ad avvitare, la vostra batteria, può capitare, che andate a rovinare, la stessa lamellina, nonostante quella lamella, è fissa, perché l'escursione, gliela dà, solo quella colla, quel silicone, che hanno messo sotto, tra la scheda, la stessa lamellina, un tubino, che ha anche un led, che ve lo faccio vedere, è qui di lato, dove quel foro, serve anche, a far spietare, la batteria, qualora, dovesse andare in corto, questo non lo auguro, a nessuno, ragazzi, questi sono, in versione, vediamo se mette a fuoco, questa è versione 18,650, questa è versione 18,350, io, visto che la stessa Couture, mi ha detto, sì, ma perché Tato, non regali, questo nuovo prodottino, a uno dei tuoi follower, io lo faccio volentieri, lo sapete, l'ho sempre fatto, lo farò anche questa volta, quindi, gli hashtag, da utilizzare, per ricevere, in forma totalmente gratuita, perché anche le spese spedizioni, saranno, a carico nostro, di questo, Cthulhu, Tube Mod 2, quindi di questo, tubicino qui, di questa scatolina qua, saranno, Cthulhu, Tube Mod 2, e, unico svapo, nei commenti, andrò a scegliere, a caso, uno di voi, e poi, mi metterò in contatto, invierò, personalmente, questo tubicino, e mi assicurerò, che questa volta, questo, prodottino, vi arriverà, il primo possibile, questo era un po' tutto, per questo, prodottino nuovo, di casa Cthulhu, ve lo faccio vedere, ancora una volta, Tube 2 Mod, ragazzi, il tubicino, costa poco, il suo lavoro, lo fa, e, ha anche, tutte le protezioni, che non fanno mai, male, in questo tipo di prodotti, la soluzione, il tasto, la trovo, abbastanza comodo, io trovo anche un tasto, che sia abbastanza, semplice, non è durissimo, da andare, ad attivare, quindi, da questo punto di vista, secondo me, Cthulhu, ha fatto un buon lavoro, la cosa che mi aspettavo, è, che, avessero, utilizzato, un circuito, un MOSFET, diverso, una soluzione diversa, comunque, gli integrati, montati sulla stessa scheda, sono stati, isolati, non benissimo, ma sono stati isolati, quindi, qualora ci potesse, essere una fuoriuscita, di liquido, la scheda, non dovrebbe saltare, ma poi, come avete visto, anche nella macro, basterà andare a svitare, una semplice vite, e si riuscirà a sostituire, semplicemente, anche il circuito, e quindi, al netto di tutto ciò, è un tubicino, che io sto utilizzando, in MTL, perché è un tubicino, un tubino, destinato, all'MTL, è un tubino, destinato, a chi, sta cercando, un tubicino, MOSFET, che non spinga tantissimo, quindi non sia molto aggressivo, nell'erogazione, che di fatto, grazie alle cose, che poi andate ad utilizzare, andate a fare, potete gestire, la stessa erogazione, vi dico, infine, anzi, a fine video, che, la stessa Cthulhu, mi ha inviato, dei drip tip in metallo, sia in colorazione nera, sia in colorazione argento, io su questo, Nautilus 3, ho montato questo, di questa forma, che non, mi dispiace affatto, e anche qui, se andate ad utilizzare, gli hashtag corretti, che sono, Cthulhu, drip tip, e unico svapo, nei commenti, selezionerò, uno di voi, che riceverà, in forma totalmente gratuita, anche, una scatolina, di questi, drip tip, noi siamo arrivati alla fine, anche di questo video, tanti like, tanti commenti, condividete anche questo video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, seguiteci su tutti i social, e come dico sempre, svapate tutti, ma svapate in sicurezza, e a proposito di svapare, chiudo il video, con una buona, e sana svapata, alla prossima, e a proposito di svapare,